Saluto cari! Vieni a parlare di nuovo in qualche minuto. In bella tavola, il cielo è blu, la temperatura è molto agrava, bella tavola. E il clima è molto buona. Climato? Se mi devo dire che il clima è buona, o se mi devo dire che il clima è buona e agrava. E noi abbiamo trasformato in una lingua di provoca. Se mi potete chiarire la differenza tra le parole di clima e il clima? Se mi devo dire che il clima è buona o il clima è buona? No, non è chiaro. Cosa è il clima? Il clima è il stato dell'atmosfera in ogni momento, in ogni locale, in ogni regione. Per esempio, se il clima è il clima è buona, la temperatura è buona, il clima è buona. Il clima è il clima è il fenomeno in ogni locale. Per esempio, se mi potete dire che il clima è buona, il clima è buona, il clima è buona. Per esempio, in ogni giorno, il clima è buona, il clima è buona e il clima è buona. Per esempio, il clima è buona in ogni regione. Il clima è buona, il clima è buona e il clima è buona, il clima è buona. E' la seca vetero, agrava vetero. Vettero è un tipo di fotografia della atmosfera, della situazione in ogni momento. Il clima è la sinseco dei fenomeni in ogni regione. Per esempio, nella mia regione, nella ventre, in generale il clima è la tre seca, in generale il clima è la tre seca, in ogni giorno il clima è la tre seca, in ogni giorno il clima è la tre seca, non è la ultima del clima. Do, perché vi buoni memori, non possiamo dire che il clima è stato che ogni attenzione il caso. Il clima è stato che ogni attenzione il caso. Il clima è stato che ogni attenzione il caso in ogni momento. In ogni modo, perché vi memori, questo è il clima. quando vi aspetta il televisione, viene il momento in cui il giornalista informa il prognosso del vetero. Il non informa il prognosso del clima. Il informa il prognosso del stato dell'atmosfera in ogni settimana, in ogni settimana, Il tema è più di vetero, non di climato. Quindi, il vetero, il momento del fenomeno, il clima, il daura, senza secco di fenomeni in ogni regione. E non mi ricordo che tutti, il vetero e il clima, sono temi per studiare in la scienza, il nome della meteologia. Il meteologo studia il clima e il vetero. Non, mi devo dire il fatto che il Dio, il vetero, è stato molto agrappato. Il tuo è stato il giusto esprimato. Mi spero che il tuo interessa lingua, provoci anche per voi, sape che il è stato per me. è stato il nostro canale, il nostro canale di Esperanto Asocio di San Paolo. Coran Saluto.